Vasta operazione antidroga condotta dal comando provinciale dei carabinieri di Caserta e che ha interessato, oltre alla provincia di Terra di Lavoro, quella di Avellino e Napoli. Oltre 70 le persone indagate soggette a provvedimenti cautelari emessi dal giudice per le indagini preliminari su disposizione della direzione distrettuale antimafia del capoluogo campano. Gli indagati apparterebbero a più sodalizi criminali attivi nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, tra le accuse proprio la detenzione di droga ai fini del commercio illecito. Più di 300 i militari dell'arma impegnati nell'operazione. Ascoltiamo Emanuele Macri, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Santa Maria Capoavetere. Dall'approfondimento del canale approfonditivo in partito a modo della cocaina si è giunti ad identificare nel piazza di Miano, Secondigliano e Capodichino uno dei canali approfonditivi e nel secondo canale approfonditivo del gruppo di Santa Maria Capoavetere, un gruppo operante nell'area vesuviana e in partito a modo nel comune di Marigliano. A sua volta attraverso sempre le attività intercettive che si sono naturalmente susseguite nel tempo e hanno permesso di approfondire anche i contatti che il canale approfonditivo aveva con gli atti adepti nei territori di competenza, ci ha permesso di individuare quindi anche ulteriori gruppi operanti nei territori napoletani.